Dopo sette mesi il Consiglio Comunale di Pesaro è tornato a riunirsi in presenza. Per l'occasione l'ha fatto spostandosi dal municipio alla sala del Consiglio Provinciale Pierangeli. A catalizzare l'attenzione dell'assise il vecchio palaspor di Viale dei Partigiani e i lavori al cimitero centrale San Decenzio. Due cantieri aperti che cambiano passo dopo l'approvazione con 23 voti favorevoli e 8 contrari alla variazione al piano triennale delle opere pubbliche presentata dall'assessore all'operatività Enzo Belloni. Idem con la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 su delibera discussa dall'assessore Riccardo Pozzi. Una delibera che ha contemplato l'acquisizione da parte del Comune di Pesaro dell'intera area relativa al vecchio palasporte. Nello specifico verrebbero acquistati i 900 metri quadrati restanti destinabili ad attività commerciali su Viale Marconi che finora appartenevano a Pesaro Parcheggi. Per Pozzi si tratta di un'operazione virtuosa e strategica che porterà al Comune fino a 1,7 milioni di euro di finanziamenti dal GSE altrimenti bloccati. Un'acquisizione in linea all'accelerata che si vuole imprimere alla realizzazione in corso del nuovo auditorium sul palasport. Accelerata che invece non ci sarà al cimitero centrale. Nel piano presentato da Belloni il primo stralcio di lavori sulle facciate esterne partirà a settembre. Il secondo stralcio, previsto per sistemare la trascinata questione del padiglione dei fiori, è al momento rimandato. Si tratta di una mossa contabile che consentirebbe di deviare l'intercettazione di oltre 20 milioni di euro di finanziamenti europei di rigenerazione urbana che potrebbero far svoltare per la ricostruzione delle scuole dell'infanzia in via Rigoni e via Togliatti oltre a coltivare concretamente l'idea di realizzare il Museo Vangi dentro Palazzo Mazzolare Mosca, mettere mano al San Domenico appena acquistato e ristrutturare la sede della Biblioteca Oliveriana. Approvata anche la delibera presentata dall'assessore alla rapidità Andrea Nobili per recuperare l'ex palazzina Enel di Via Uozi chiusa dagli anni 90, previsto un cambio di destinazione d'uso da servizi a terziario residenziale.